Parte domani, 27 gennaio, la sperimentazione di due mesi che prevede l'inversione del senso di marcia di via della Fornace di Fano, che sarà quindi percorribile dall'interquartiere in direzione Fenile e di via Montenerone, che tornerà al precedente senso di marcia come richiesto dai residenti. Lo comunica l'assessore alla qualità urbana Fabio Latonelli, che afferma L'obiettivo è quello di veicolare il traffico della zona rallentandolo. I lavori di moderazione del traffico coinvolgeranno anche via Trave. Nell'incrocio tra quest'ultima e via della Fornace, infatti, sarà costruita una piccola rotatoria in New Jersey, mentre lungo la stessa via, lato cimitero, nei pressi della rotatoria, sarà realizzato anche un restringimento della carreggiata. Questi interventi sono molto attesi dai residenti di questa zona, perché più volte hanno lamentato la velocità delle automobili. Cogliamo questa occasione per fare questa sperimentazione di questo progetto, che è un po' di tempo che ci stiamo dietro, abbiamo fatto anche degli incontri con la cittadinanza. Facciamo questa prova in cui noteremo se la fruibilità delle automobili e dei ciclisti migliora e ad aprile inizieremo con i lavori più strutturali, in cui aumenteranno i restringimenti di carreggiata lungo tutta via Trave e stabilizzeremo la situazione di via Fornace e via Montenerone. In via Fornace riasfalteremo tutta la strada, là ristringeremo la carreggiata e lasceremo una corsia ciclabile sul lato sinistro della carreggiata come attualmente. Il costo del lavoro è circa 270 mila euro, sono fondi del Ministero, abbiamo partecipato a un bando sulla sicurezza stradale e quindi siamo riusciti ad ottenere questo finanziamento. A partire da domani cominceranno i lavori per il cambio della segnaletica verticale e per l'installazione dei New Jersey. Invitiamo quindi tutti i cittadini a prestare attenzione, ha poi aggiunto l'assessore Tonelli. L'amministrazione ha molta attenzione sulla viabilità, ma inizieremo a vedere questi tipi di interventi perché vogliamo far diventare le zone residenziali delle zone 30. L'indirizzo dell'amministrazione è quello di mettere in sicurezza i pedoni ciclisti rallentando la velocità delle auto.